È successo lunedì 21, la notte lunedì 21, intorno all'1.10 ho ricevuto una chiamata. Io personalmente ho ricevuto una chiamata di mio padre dove mi diceva che qualcuno aveva suonato alla porta avvertendolo che avevano visto delle fiamme davanti al locale. Nell'arco di 30 secondi realmente a corsa sono arrivato qui davanti e ho trovato già due ragazzi della nettezza urbana che comunque stavano cercando di domare un po' le fiamme all'esterno. Sia i vigili del fuoco subito appena arrivati hanno rilevato delle tracce di liquido infiammabile. La nostra risposta è quella di voler dare un segnale forte. Forte a tutti i giovani, a tutta la gente per bene come noi che vive di sacrificio e che non ha paura di questi gesti meschini. Così facendo non hanno concluso nulla. Io non so né chi sia stato né perché l'hanno fatto quindi se volevano dare un segnale non hanno capito che il segnale non è arrivato. La nostra risposta è la nostra risposta è la nostra risposta.